L'unanimità della conferenza dei sindaci della città metropolitana di Reggio Calabria ha licenziato un documento nel quale chiede alla giunta regionale il blocco dell'iter legislativo sulla creazione di un gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti e la fissazione urgente di un incontro per rappresentare meglio le motivazioni della contrarietà rispetto all'ipotesi di approvazione della proposta approvata dal consecutivo regionale. Un progetto, secondo i sindaci metropolitani che rischia di fanificare tre anni di sforzi e di sacrifici anche economici della città metropolitana di Reggio e dei comuni che dopo le difficoltà causate proprio dalla regione dal commissariamento complessivamente oltre 20 anni hanno finalmente iniziato a gestire in maniera efficiente ed efficace il ciclo dei rifiuti. Fu un provvedimento che ovviamente non può essere accettato dal nostro territorio metropolitano se non altro per i risultati che appunto questo territorio ha saputo dare in questi anni in una materia molto complicata come quella dei rifiuti. L'esperienza positiva del lato del territorio metropolitano invece possa essere messa a disposizione della regione Calabria e con una separazione di quelle che sono appunto gli interessi per quanto riguarda l'idrico e per quanto riguarda invece il settore dei rifiuti e questo ovviamente proveremo a farlo in una riunione che vedrà coinvolta la giunta regionale e i consiglieri regionali di questo territorio.